Vittoria del sindaco Giuseppe Lanzara in merito allo scontro avvenuto nelle ultime ore con la famiglia Orfei. In una nota i vertici del gruppo Circenzi hanno posto le proprie scuse per l'atteggiamento assunto nei confronti di Lanzara, oggetto di una dura aggressione, e si sono ufficialmente impegnati a non utilizzare gli animali durante gli spettacoli, ad eliminare la cartellonistica pubblicitaria fissa abusivamente, a risolvere le problematiche riguardanti la viabilità richiedendo le autorizzazioni previste. Più che soddisfatto il commento del sindaco. Finalmente siamo arrivati in una conclusione ragionevole e rispettosa dei diritti di tutti. Il circo Orfei si terrà dopo e solo dopo aver ottenuto le dovute autorizzazioni e si svolgerà senza l'utilizzo degli animali. Accusa di aggressione rispedita al mittente dal titolare Lino Orfei, che dichiara Non c'è stata nessuna aggressione, né verbale né fisica, nei confronti del sindaco Lanzara, né da parte mia o da altri componenti del circo presenti al momento. Ci affidiamo all'arva dei carabinieri e alla legge italiana per far piena luce e chiarezza su questi incresciosi avvenimenti. Conclude Orfei, che ha presentato querela per diffamazione nei confronti del sindaco. Grazie a tutti.